ma cos'è che ha un'accelera come lo scooter di Rashid uguale quello di Rashid quando l'abbiamo acceso dopo vent'anni che era fermo faceva così solo che questo non sarà fermo da vent'anni la pompa benzina va si sente la pompa benzina va senti solo che il motore che non tira come il mio che ho quello dell'altro giorno il mio non accelera va così perde colpi è l'aria magari troppa aria e meno benzina aria e aria 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 va strano va va malissimo va troppa aria e poca benzina ma non ha dei getti da regolare qua il carburatore non ha dei getti da regolare come la guzzi no 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 è proprio ah non ha il carburatore è vero che ha inizione elettronica sta cagata qua è una cagata però inizione elettronica non puoi regolarlo non puoi regolarlo è brutto così è brutto così perché se si scarbura come fai come adesso infatti fa cagare non ci vuoi ci metti un carburatore vedi che funziona brutto madonna questa è la centralina elettronica si se questo era il carburatore andava vedi che le cose di oggi fatte in questo modo è come se non entra benzina agli alti è come se non entra benzina quando è accelerata al massimo che è come se è limitato ma anche il mio motore fa così solo che il mio è il carburatore cambio il getto e è apposto infatti devo trovare dei getti più grandi io poi lo cambio sì 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 la benzina magari è vecchia magari è la benzina che è vecchia magari è la benzina che è vecchia sì non lo so dipende quanti anni è fermo che la benzina se è fermo da un anno la devi cambiare non lo so dipende può essere anche la benzina dipende può essere anche la benzina